Benvenuti a tutti anche oggi qui su MTI, io sono M e oggi vi voglio parlare di un videogioco in particolare ma prima vi ricordo tutti i miei social di mettere mi piace a questo video, condividere, commentare, farmi sapere la vostra e divulgare questo video sui vostri social perché mi fa moltissimo piacere se voi ne parlate e oggi di che gioco però io vi voglio parlare, o meglio vi voglio presentare si tratta di questo Slap and Beans, un gioco abbastanza recente su Bud Spencer e Terence In, un gioco ufficiale ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a giocare! Eccoci quindi praticamente dentro alla schermata di gioco, come potete vedere dovreste già sentire in sottofondo delle musichette degli Oliver Onions che vi faccio già vedere, c'è il Jukebox infatti ve lo presento un attimo, questo qui è il gioco, la presentazione del gioco dove vi farò vedere anche a che livello sono, scarso diciamo però è un gioco che come dicevo mi dà tanti ricordi queste sono tutte le musiche che con Kickstarter sono riusciti ad avere, ad averne i diritti e tu puoi premere semplicemente play, tipo voglio sentire l'ultimo waltzer e faccio pre... ooooh vabbè ma andiamo avanti che voglio parlarvi appunto di questo gioco questo gioco io ho già iniziato una partita vi faccio vedere com'è impostato questo gioco ho sbloccato alcuni livelli perché sono ripartito dall'inizio con un livello intermedio per cercare di rendere un po' più complesso a livello facile, è veramente facilissimo arrivare in fondo è una bellissima storia fra l'altro e che prende come arco narrativo tutti i film della coppia appunto di Bud Spencer e Terence Hill come dicevo questo è un film, un videogioco che prende spunto da tutti i loro film e soprattutto fatto con i diritti di Bud Spencer e Terence Hill anzi Bud Spencer prima di prendere appunto, di morire scusatemi quindi prima di morire diede proprio l'avvallo a questo progetto e suo figlio l'ha portato avanti e via dicendo allora io adesso ho scelto il vecchio West come avete visto il gioco inizia da qui quindi vi faccio vedere come inizia il gioco io essendo di corporatura più mingerlina prenderò un giocatore di Terence Hill prenderò le veci di Terence Hill ma andiamo avanti, iniziamo subito con il gioco come si presenta, intanto è grafica 8 bit ed è molto molto interessante allora all'inizio le prime versioni non erano così definite era molto più 8 bit devo dire che a me piaceva di più molto più 8 bit di adesso qui tanto sta andando avanti la storia ve la faccio vedere un attimo lentamente sono ovviamente i soliti cattivi con le donzelle che stanno importunando le donzelle classica storia di Bud Spencer anzi di Trinità e bambino del vecchio West quindi ovviamente Terence Hill si fa scudiero di queste donne perché con i suoi occhioni azzurri che si possono vedere anche benissimo nel video che sono azzurrissimi lui le deve difendere quindi cosa succede? lui provoca i cattivi adesso è ancora tutta la fase di spiegazione del gioco quindi si può saltare con la Y per andare un po' più veloce ma io adesso ve la faccio un po' vedere così e quindi si inizia a picchiare allora Terence Hill ovviamente questo è ancora tutto da... diciamo di presentazione adesso si inizia a fare più serio ecco qui io adesso perderò l'utilizzo del mio neurone perché va detto io sono dotato di un unico neurone e non posso parlare e giocare contemporaneamente cioè lo posso fare però è come se prendessi delle... cioè non è possibile perché non riesco a fare due cose contemporaneamente sono un maschio quindi io sto cercando di menare la gente senza poi riuscirci e infatti vedete che sto già... mentre il mio bad non sta perdendo assolutamente niente io sto già subendo un casino di danni come vedete è un gioco abbastanza interattivo con la X in questo caso o comunque col tasto secondo se usate il controller o meno posso prendere i fagioli mangiarmeli e recuperare l'energia poi ovviamente secondo la X si distrugge tutto si va avanti e arrivano i cattivi la padella ovviamente è un classico dei film di... del Wrecking West con i fagioli quindi ci sta benissimo anzi sono riuscito a fare una combo perché mi hanno preso non so come però va bene io non riesco mai a farle combo quindi abbiate pietà io adesso vi mando avanti questo qui lo lasciamo a bad quando si riprende prendi... prendilo vabbè lo prendo io ho già capito ecco qui oh bad prendila te quella dai prendila oh prendila bravo e qui adesso arrivano gli altri e mosse meno a tutti oh che bello ah si è mosso l'omino non l'avevo visto comunque il gioco è praticamente tu che meni in realtà inizia dal Wrecking West perché vi spoiler un attimo la fine di questi dei primi due livelli che sono il treno e appunto il Wrecking West perché loro stanno girando un film sono gli attori che devono girare questo film a Hollywood negli Stati Uniti bad le sta prendendo di santa ragione perché io non lo stavo proprio minimamente aiutando ero là per i fatti miei adesso gli lascio le birre da riprendersi non me lo menare oh prendiamo un'altra birra adesso siamo tutti belli carichi e andiamo avanti ecco qui c'è la prima cosa che non si può fare è un gioco in combo accidenti il ponte è crollato cosa bisogna fare questo è la prima cosa che uno non si aspetta e dice Terence io posso saltare dall'altra parte però non ci arrivo e quindi cosa posso fare io è da un po' che non ci giocavo quindi diciamo ci penso io vediamo un po' se lo fai in automatico ah lo fai in automatico va bene perché prima nelle prime versioni dovevi prenderlo tu dovevi adesso con la y non ci sali sopra e ti aggrappi nelle prime versioni dovevi proprio prendere tu il controllo di Bud Spencer perché si può fare e quindi adesso io le staccati oh ma vabbè eccoci qua siamo andati giù e siamo dall'altra parte adesso lo può ovviamente arrivare ma vi faccio vedere perché tu puoi cambiare il personaggio in corso è interessante anche questa cosa quindi io prendo Bud a questo punto e ho invertito adesso sto comandando Bud Spencer e può essere interessante anche cambiare personaggio in corso soprattutto perché nelle prime versioni nelle prime versioni appunto c'era questa impossibilità dell'AI di fare di fare quelle manovre dovevi tu cambiare il giocatore per farlo a me sembrava più interessante che farlo fare in automatico ai giocatori ma vabbè comunque come dicevo la storia ripercorre un po' tutti i loro film e ci sono alcuni punti veramente salienti come le scene a Luna Park le Doom Buggy la birra con le salsicce la città le corse in autostrada e poi ci sono anche parti come chi trova un amico trova un tesoro e via dicendo ma volevo farvi vedere le parti più peculiari di questo gioco che si trova su Steam ve lo volevo dire su Steam io l'ho preso col Kickstarter appena imparato che c'era questo gioco io ho deciso di finanziarlo subito guarda non avevo neanche visto ho detto io finanzie perché è Bud Spencer e Terence Hill ed è stato uno dei migliori acquisti su Kickstarter che abbia mai fatto vi ho caricato adesso la gara birra e salsicce io sono assolutamente incompetente in questo gioco una cosa devastante lo potrete vedere dovete far arrivare premere il pulsante a seconda del di dove di quando arriva dentro quel riquadro lì io sono ovviamente Terence dovrei sì ecco quindi vedete bisogna semplicemente eseguire le direzioni in questo caso io adesso sto parlando e ho un solo neurone quindi non so come mi metterò perché a un certo punto il rischio è di perdere brutalmente cognizione io premo la Y perché devo un attimo rilassarmi ho perso le combo in questo momento perché è diventata orca miseria ecco sono come vedete sono proprio appena mi distraggo due secondi io bevo intanto che fa solo bene perché aiuta a riprendere un attimo fiato vediamo un po' se riusciamo io intanto bevo ecco ho già sbagliato forse ce la posso fare a questo punto non lo so non lo so intanto si sta riprendendo io bevo bevo di nuovo perdo punti a caso ma lo so già che perderò questa sfida perché come dicevo sono totalmente inaffidabile ecco io non ce la posso fare vediamo un po' se poi alla fine non lo riesco neanche a premere in orario c'è proprio una cosa assurda mi sto ingolfando mi sto ingolfando sta ingolfando si sta ingolfando sono sono davanti ma di pochissimo tra poco mi ingolfo di sicuro ecco ho preso ho anche sbloccato un achievement se volete vedere non ce la posso fare basta e hai ancora un minuto da fare io adesso stacco perché è inutile ma è una bella gara anche questa birra e salsicce io ovviamente avrei perso brutalmente e così vabbè ve l'ho detto il livello intermedio inizia ad essere veramente complicato bisogna essere bravi soprattutto a menarsi perché in tutti questi livelli alla fine ci si deve menare io adesso però vi faccio vedere un altro che è quello della gara di Dumbaghi perché è un classico cioè ragazzi la gara di Dumbaghi è un classico qui su per Bud Spencer Terence ha fatto la storia altrimenti ci arrabbiamo e parti ovviamente per ultimo perché non si può fare altrimenti non mi ricordo più neanche i tasti io tra l'altro prima di riprenderlo in mano per questa per questa diciamo io intanto sto già facendo dei discreti incidenti non mi sembrava forse troppo difficile questa gara qui delle Dumbaghi ma io ovviamente sto tenendo giù l'acceleratore sempre a palla proprio a tavoletta ecco sono già quasi in testa sono già in testa sono già in testa ma perché ho tagliato ho tagliato brutalmente e sì è un gioco carino non è difficilissimo anzi per me è veramente semplice alcuni mi hanno detto che l'hanno trovato molto complicato da giocare io sinceramente come avete visto in tre curve ero già in testa ma penso di non essere l'unico a trovarsi comunque bene a giocare questo giochino di auto faccio il primo giro per farvi vedere giusto la la pista ovviamente come vi ho già detto si può tagliare ci sono dei punti dove si può tagliare il tracciato per guadagnare qualche secondo io tengo quasi sempre il pedale sull'acceleratore a tavoletta ecco ovviamente qui ho sbagliato adesso devo mollare perché ho sbagliato a tagliare vabbè questo è un taglio molto proficuo perché ti fa mantenere la velocità e siamo già sul traguardo ecco questo è il primo giro quindi io adesso stacco di nuovo e ritorno al menu questa vuole essere semplicemente una presentazione del gioco che però vi faccio vedere dove sono arrivato cioè ve lo devo far vedere vi faccio vedere dove io cioè proprio non riesco ad andare avanti a livello medio perché ho dei problemi comunque ripeto ancora adesso faccio Y per schippare qui la storia è già andata avanti molto bella anche la storia fra l'altro quindi ci hanno veramente lavorato bene un team italiano italiano e tedesco è veramente incredibile quello che sono riusciti a fare perché è qui non mi ci fai salire no niente è veramente sono stati veramente bravi sono stati veramente bravi e è qualcosa che cioè se ci fosse stato negli anni 90 questo gioco anziché insieme a Monkey Island e via dicendo io veramente mi sarei mi sarei divertito un casino avrei passato tantissimo tempo a giocare con questo gioco se fosse arrivato nei primi anni 90 sarebbe stata una vera e propria rivoluzione secondo me una cosa che probabilmente era anche inconcepibile per l'epoca italiana quindi io le sto già prendendo come non so cosa perché io mi butto in mezzo alla RIS senza fare combo senza fare nulla mi serve già da da prendere energia ma intanto arrivano già i cattivi arrivano anche super cattivi ma io qui l'unico modo è veramente saltare a destra si mi ha preso una patonca che non so solo io mi sposto brutalmente devi continuamente schivare devi continuamente schivare proprio e niente non ce la posso fare ah ma ha anche preso la birra quella cosa immonda io vabbè adesso mi sto perdendo anche a parlare ma sto praticamente morendo nel giro di pochissimo ho picchiato anche bad vabbè vabbè usciamo prima di fare ancora più pessime figure ritorno sulla parte ju box per prima di salutarvi metto su un classico che è Trinità e quindi vi volevo appunto lasciare con questa musica per la fine di questo video io spero che questo gioco vi sia piaciuto è veramente un gioco da da comprare se si vuole se si vuole esco perché se no youtube mi taglia tutto questo gioco assolutamente da comprare se si vuole ricordare queste due persone che dagli anni settanta fino a metà degli anni novanta ci metto dentro anche botte di natale ci hanno fatto compagnia ci hanno dato tanta allegria con dei film trash bellissimi stupendi ma tutto quanto questo è un gioco è veramente degno di loro degno di quello che loro hanno saputo fare non è un gioco ovviamente nuovo ne avranno già parlato tanti però se non eravate ancora a conoscenza pensateci prendetelo a sconto anche a prezzo intero su steam perché veramente veramente ne merita secondo me per quei mezz'ora 40 minuti in serenità in allegria ricordando quando si era bambini noi però ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao